Conto alla rovescia a Palo del Colle per il tradizionale e attesissimo Palio del Vicio, in programma domani a partire dalle 15. Vincerà il Palio il Cavaliere che, hissandosi sulle staffe del proprio cavallo in corsa, in una prova ed estremo coraggio e destrezza, riuscirà a infilzare per primo la vescica piena d'acqua che ha sostituito l'originario Tacchino, il Vicio appunto, in dialetto locale. Teatro principale della competizione è Corso Garibaldi, strada in salita lungo il pendio del Colle che dà il nome al paese in provincia di Bari. Dieci i Cavalieri in gara, uno per ciascuno dei rioni palesi, Auricarro, Casale dei Greci, Castello, Lago San Giuseppe, Madonna della Stella, Porta Reale, Riuplen, San Rocco, San Sebastiano e San Vito. La vescica da infilzare è sospesa a metà di Corso Garibaldi, la lunga strada in salita che conduce a Piazza Santa Croce, dove alle 19 sarà premiato con tutti gli onori il Cavaliere vincitore del Palio del Vicio.